Quante volte ti è capitato di doverti registrare ad un servizio web oppure semplicemente a un sito e da quel momento in poi dopo aver fornito la tua mail cominciare a ricevere una catasta di spam sia dal sito a cui ti eri registrato ma magari anche da tanti altri siti a cui quest'ultimo ha venduto il tuo indirizzo di posta. Beh, ma ci sarà una soluzione a questo problema? Certo che c'è, andiamo a vederla insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Come fare quando, come in questo caso, un sito web per poter essere utilizzato ci chiede di effettuare una registrazione e di fornirgli un indirizzo email valido nel momento in cui non vogliamo dare il nostro? Ebbene, la soluzione è incredibilmente semplice. Tutto ciò che dobbiamo fare è aprire una nuova scheda sul nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare tempmail. Effettuiamo la nostra ricerca e andiamo ad aprire il primo indirizzo, cioè quello relativo al dominio temp-mail.org. Come vedi, dopo alcuni secondi verrà generato un indirizzo di posta elettronica temporaneo che potrai andare ad utilizzare per la registrazione. Vediamo come. Copiamo l'indirizzo appena generato, torniamo nella scheda precedente e andiamo ad incollarlo laddove ci viene richiesto un indirizzo email. Dopo aver compilato tutti quanti gli altri campi necessari, se eventualmente ce ne fossero, clicchiamo sul pulsante di registrazione e torniamo sulla scheda che avevamo aperto precedentemente. Questo sito continuerà a controllare il nostro indirizzo di posta fino a quando non arriverà, come vedi, la mail che stiamo aspettando. Tutto ciò che dovremo fare sarà semplicemente andare ad aprirla e confermare l'avvenuta registrazione. Tutto qui. Il mio consiglio è quello di utilizzare questo trucco solamente con i siti di cui ti fidi meno. Anche perché il rovescio della medaglia è che una volta chiusa la pagina web di TempEmail, la tua casella temporanea verrà distrutta e quindi non potrai neanche ricevere ulteriori comunicazioni dai siti su quel indirizzo. E detto questo, come sempre non mi resta che salutarti, ringraziarti per avermi fatto compagnia nel corso di questo video e darti appuntamento. Alla prossima!